Siamo con Diego Dominguez, uno dei grandi del rugby italiano. Ciao, come stai? Come stai? Bene, tutto a posto. Senti, parliamo un po' di questo 6 nazioni. Non sta andando nel migliore dei modi per l'Italia? No, è stato difficile. Penso, forse, di questi dieci anni, è il più difficile questo. Il sabato scorso abbiamo visto spunti di miglioramento con rispetto alle altre partite. La parola si poteva vincere anche il sabato scorso, prendendo un po' più di rischi, si poteva vincere quella partita. Adesso, ultima partita, la Francia. La Francia che ha preso una bellissima, una grande batosta, come diciamo, il sabato scorso a Iniliterra. Le due squadre non hanno niente da perdere, ma tu sai che il mondo del rugby si gioca sempre per vincere alla morte. Allora, sarà una bella partita, l'Italia ha la possibilità di vincere il sabato. Deve credere, deve prendere rischi e deve attaccare. Senti, tante polemiche attorno a Nick Malle. Tu che idea ti sei fatto? Tutti gli esperimenti che ha fatto? Sono stati giusti? Serviranno per il futuro? Senti, è sempre facile criticare da fuori. Io ho quello che dico, che uno sempre fa cose buone. Sono esperimenti che Nick sta facendo per trovare l'equilibrio giusto per il futuro. Io l'ho avuto come allenatore due anni, con ottimi risultati, ottima esperienza con lui. È un momento difficile della squadra, ma non sarei critico così. Le scelte, le prove devi farle. Alcune a volte azzecchi, altre volte no, ma ti serve per il futuro. Ultima cosa, Celtic League hanno aperto la porta all'Italia. Pensi che possa essere utile al nostro movimento? Sì, certamente. È una competenza molto dura. La gente pensa che non si rende conto che è molto più dura di quello che pensano. Dura, devi prepararti per quel momento. Non puoi entrare così all'improvviso in un mese, due mesi, devi prepararti. Sarà molto importante per noi, ma questo è un passo importante, ma non dobbiamo dimenticarsi del top ten italiano. Il nostro campagna italiano deve essere forte, più che mai la nostra base, il nostro osservatoio, e non bisogna togliere attenzione al top ten. Deve essere sempre più forte per alimentare Celtic League, Enegen Cup e Nazionale. Se il top ten non è forte, avremo dei problemi seri. E speriamo che magari nasca qualche altro domingue. Speriamo sì, tutti sono rimpiazzabili. Io ho due maschi, uno sto preparando. No, ma uscirà, uscirà, uscirà. Sicuramente bisogna formarli anche, capito? Bisogna formarli, bisogna aiutare che questo avvenga più velocemente. E penso che potremo, che si potrebbe fare di più sulla formazione. Grazie. A te, ciao, ciao. Ciao.